Nome. Bartolomeo Gagliano. Soprannome. Il mostro di San Valentino. Numero vittime. 3. Modus operendi. Armi contondenti, arma da fuoco. Bartolomeo Gagliano è nato nel 1958 a Nicosia, in Sicilia, per poi trasferirsi durante l'infanzia in Liguria, a Savona. Nel suo agghiacciante curriculum si contano tre omicidi e un tentato omicidio, oltre ad evasioni, rapine e distorsioni. Il primo delitto risale al 1981 quando, all'età di soli 22 anni, uccise a Savona la prostituta 32 anni Paolina Fedi, sfondandole il cranio con una pietra. Il muovente dell'omicidio sarebbe la minaccia, da parte della donna, di raccontare alla sua fidanzata ufficiale della loro relazione amorosa. Venne scoperto quasi subito e, considerato psicopatico, ricevette una condanna di otto anni nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. Qui rimase due anni e, nel corso di un permesso, evase, sequestrò una famiglia a massa marittima e si fece portare a Savona. Però fu nuovamente arrestato a seguito di una sparatoria con la polizia, e internato nell'ospedale psichiatrico di Montelupo, a Firenze. Qui fece conoscenza con Francesco Sedda, un tossicodipendente, totalmente infermo di mente. È l'11 gennaio 1989 quando evasero in compagnia del suo nuovo amico, il 6 febbraio 1989, uccise Nair Fernandez Rodriguez, transessuale uruguayano. Ormai Gagliano era totalmente fuori controllo. Il 14 febbraio, a Genova, assassinò a colpi di pistola un travestito, Francesco Pannizzi, mentre si trovava in auto con un cliente, che rimase ferito. Il giorno successivo sparò ad una prostituta di 29 anni in viso, che si salvò miracolosamente. Il pazzo sperava sempre in bocca. Questa era la sua firma. Il 20 febbraio fu finalmente arrestato, insieme a Francesco Sedda. Dichiarato infermo di mente, venne nuovamente internato nello stesso ospedale psichiatrico. È il 2002 quando venne liberato, poiché considerato guarito. Ma l'uomo non lo era. Nel 2005, infatti, fu nuovamente arrestato per rapina. È il 2013 quando evase di nuovo. Tenne l'Italia con il fiato sospesso. Uno psicopatico, considerato estremamente pericoloso, era fuggito e poteva colpire di nuovo da un momento all'altro. Fu catturato quattro giorni dopo in Francia, e aveva fatto in tempo a sequestrare una persona durante la fuga. Estradato dalla Francia il 23 aprile 2014, fu rinchiuso nel carcere di Sanremo e tenuto sotto stretta sorveglianza. Rimase impassibile, scontroso e aggressivo fino all'ultimo. Si impicca nel gennaio 2015.